Il modello Fano non è solo un accordo siglato tra le parti in libero accordo, ora è di riferimento per operazioni simili in altre realtà regionali in ambito sanitario. Lo stabilisce la Regione Marche che ha inserito il modello Fano nel nuovo piano sociosanitario approvato di recente dal Consiglio regionale dopo opportune modifiche in sede di Commissione. Il modello Fano si riferisce al protocollo di intesa tra la Regione ed il Comune stipulato nell'aprile del 2018 in cui le parti si impegnavano rispettivamente ad operare sull'assetto delle strutture ospedaliere dopo la realizzazione del nuovo ospedale unico di Marche Nord. Con questo accordo Fano ha avuto sul piatto 80 posti di RSA, 20 milioni di euro da spendere nel settore viabilità per migliorare i collegamenti tra le due città e il mantenimento dello status di ospedale per il Santa Croce, con la gestione delle emergenze con codici fino al rosso grazie alla chirurgia attiva H24 in cambio della cessione del terreno su dove realizzare una struttura privata convenzionata. Ora tutto questo è entrato nel piano approvato dal Consiglio e per cambiarlo si dovrà passare in futuro per l'assise. Non basterà un semplice delibera di giunta, come ci tiene a ricordare Renato Claudio Minardi, uno dei fautori di questo risultato. Il piano sociosanitario è il piano per eccellenza della programmazione sanitaria della Regione Marche e quindi acquisisce un valore maggiore ed è quindi un'opportunità che si consolida, si cristallizza all'interno di un piano. E abbiamo previsto un'altra cosa, che questo modello del protocollo Fano venga replicato laddove c'è da costruire un nuovo ospedale, in particolare nell'area vasta 3 Civita Nuova Macerata, nell'area vasta 5 Ascoli San Benedetto. Le altre cose su cui abbiamo lavorato è far sì che la sanità sia un'opportunità per tutti e quindi tutti devono poter accedere ai servizi sanitari alle stesse condizioni. Anche le aree interne e gli ospedali di aree disagiate, dopo opportuno passaggio in commissione di una mozione di cui il consigliere Gino Traversini ne è firmatario, hanno ottenuto importanti supporti per un servizio qualificato sul territorio e soprattutto nell'arco di tutte e 24 le ore. Chiediamo che nel discorso degli ex ospedali di Polo, nelle aree interne, ci sia una persona H24, addetta appunto per l'emergenza, è stato recepito insieme a altre situazioni importanti dove sono riconosciuti le aree disagiate, territori di aree disagiate e si è stata data uniformità. In più è stato riconosciuto il fatto che in quegli ospedali dove non c'è il punto di primo intervento, dove non c'è la chirurgia eccetera, comunque viene garantito il fatto di mettere un dottore H24 specifico per l'emergenza, questo è il grande risultato.